Buonasera benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense. Per quanto riguarda la politica inizieremo a conoscere i candidati ferraresi per quanto riguarda le elezioni che si terranno il prossimo 25 di settembre. I vari appuntamenti anche con la politica, gli incontri in città e in provincia. Poi parleremo di moda perché domani sera ci sarà l'appuntamento con la moda in Castello, una serata all'insegna della metamorfosi. Vedremo il perché. Poi ancora l'ambiente. Andremo a Volano dove i volontari in questo weekend hanno pulito la spiaggia. Vedremo la quantità di rifiuti raccolti e poi la SPAL. La SPAL che presenta ufficialmente il nuovo centrocampista e il nuovo difensore li conosceremo. Però apriamo con il primo giorno di scuola diciamo così e il messaggio del sindaco di Ferrara Alan Fabri perché proprio domani nelle prossime ore si apre l'anno negli asili nido e nelle scuole di infanzia comunali e per questo motivo è arrivato il messaggio del primo cittadino. La giornata anticipa le prossime aperture delle scuole statali mentre tra le scuole private e le scuole paritarie da inizio settembre c'è già chi è già in classe o chi entrerà nei prossimi giorni. Si apre un anno speciale ha detto Alan Fabri perché ci lasciamo alle spalle le restrizioni covid e questo rappresenta un sospiro di sollievo e apre alla prospettiva di una maggiore libertà di vivere la bellezza dei rapporti a lungo limitati da una lunga emergenza ha sottolineato il primo cittadino che augura alle ragazze e ai ragazzi di vivere la bellezza di questo nuovo anno scolastico e degli anni futuri. Ora il covid, il covid, la pandemia l'abbiamo detto che i numeri per quanto riguarda la provincia di Ferrara registrano un calo per quanto riguarda i nuovi contagi e per fortuna un aumento anche dei guariti, c'è ancora purtroppo una vittima in regione cala il numero dei ricoveri nei reparti covid, resta stabile invece quello nelle terapie intensive. Vediamo. 43 nuovi positivi a fronte di 286 tamponi refertati, 173 guariti e un decesso. Questo in sintesi quanto riportato dall'ultimo bollettino relativo alla pandemia a Ferrara e nella provincia estense che piange ancora una vittima per complicanze da covid-19 un uomo di 68 anni di Ferrara. Calano intanto i posti letto occupati nei reparti covid degli ospedali ferraresi, 19 le persone ricoverate a Sant'Anna di Ferrara a Cona, una si trova in terapia intensiva, al delta di Lago Santo sono 22 i posti letto occupati, 8 invece al Santissima annunziata di 100. In Emilia Romagna sono 1.057 i nuovi casi di coronavirus rilevati con poco più di 12.900 tamponi ma ci sono 1.341 guariti. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive con 30 pazienti mentre calano nei reparti covid dove ci sono 792 persone ricoverate. Nel bollettino regionale inoltre vengono segnalati altri 10 decessi per complicanze da SARS-CoV-2. E ora la politica perché in occasione delle elezioni del prossimo 25 settembre il nostro sito telestense.it da oggi pubblica le interviste della nostra redazione ai candidati all'uninominale per i collegi di Ferrara per la Camera dei Deputati e di Ferrara e Bologna per il Senato. Oggi è la volta di Paola Boldrini, senatrice uscente, esponente del Partito Democratico, candidata all'uninominale a Ferrara per la Camera dei Deputati per la coalizione di centro-sinistra. Sentiamo. Laureata in pedagogia all'Università degli Studi di Ferrara con una tesi sulla psico-oncologia per le donne operate al seno, fino al 2015 Paola Boldrini è stata responsabile amministrativa del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Ferrara dopo aver svolto incarichi amministrativi presso diverse cliniche dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna della nostra provincia. Paola Boldrini ha una lunga esperienza politica alle spalle dapprima nelle istituzioni locali come Presidente del Centro Servizio alla Persona, poi come Presidente delle circoscrizioni Nord-Ovest dal 2004 al 2009 e della circoscrizione 3 dal 2009 al 2014. Dal 2015 è in Parlamento, dapprima alla Camera dei Deputati, poi dal 2018 in Senato. Si presenta alle politiche del 25 settembre 2022 come candidata per l'uninominale a Ferrara per la Camera dei Deputati, per il PD e per la coalizione di centro-sinistra, formata da Partito Democratico Italia Democratica e Progressista di Enrico Letta, Alleanza Verde e Sinistra di Angelo Bonelli, Piero Europa di Emma Bonino, impegno civico di Luigi Di Maio. Agli elettori, in questa campagna elettorale, si presenta con lo slogan In Buone Mani, che sottolinea il clima di fiducia che lei ha sempre cercato di instaurare con i cittadini, in particolare con i suoi concittadini, cioè con i ferraresi, e la fiducia dice di quando ci si dà la mano, ci si guarda negli occhi, che rivelano che persone siamo. Alla domanda perché chiede il voto, risponde con l'entusiasmo che caratterizza la sua personalità e la sua azione presso i cittadini, che ha incontrato in questi anni con grande frequenza, occupandosi soprattutto dei temi della sanità e dei diritti delle donne, dice perché in questi anni ho lavorato lacrimente, raggiungendo risultati importanti, come testimoniano i numeri che rappresentano la mia attività. È giovedì 8 settembre, alle ore 13, Matteo Salvini sarà all'archibugio di Ferrara per un incontro sul programma della Lega in vista del voto del 25 settembre. Ci saranno i temi dell'economia, del caro energia, della difesa, del potere d'acquisto delle famiglie, ma anche il problema dell'immigrazione, senza dimenticare la sicurezza sul tavolo dell'incontro appunto con il segretario federale Salvini, che si terrà, dicevamo, al ristorante l'archibugio in via d'Arsena 26, a partire dalle ore 13. Per l'incontro conviviale organizzato per i cittadini militanti saranno presenti anche le autorità locali, i segretari e i dirigenti del carroccio. Mentre domani, mercoledì 7 settembre, alle 18.30, al Factory Grisù di via Pollederelli a Ferrara ci sarà l'incontro dei candidati del terzo polo, tra cui Matteo Ricchetti, Emma Fattorini, Francesco Badia e Silvia Cranzi, che incontreranno i cittadini per un confronto sui temi e i punti del programma che caratterizza la coalizione e l'importanza, si legge in un comunicato, della presenza di una terza proposta anche sul territorio ferrarese. Un programma, spiegano gli organizzatori, volto a portare a termine il lavoro dell'agenda Draghi senza demagogie e populismi. Ora parliamo di cultura perché dal 30 settembre al 2 ottobre ritorna a Ferrara il festival del giorno di giornalismo internazionale, un weekend con i giornalisti di tutto il mondo, giunto alla sedicesima edizione, il tema di questa edizione 2022 è la pace. Dalla guerra in Ucraina alla crisi ambientale e, come ogni anno, grande attenzione al tema dei diritti, con un approfondimento sulle elezioni in Brasile, che si terranno proprio in contemporanea con il weekend del festival. Questi i temi al centro della sedicesima edizione di Internazionale a Ferrara, che si svolgerà dal 30 settembre al 2 ottobre prossimi. Il festival di giornalismo è organizzato dal settimanale internazionale, pubblicazione che porta in Italia il meglio della stampa straniera e dal comune di Ferrara. Per l'occasione in città arriveranno giornalisti di tutto il mondo per partecipare alla tre giorni di eventi, dibattiti, presentazioni, proiezioni, mostre e workshop dedicati ai grandi temi dell'attualità, dell'economia, della politica e della cultura. Con 160 ore di programmazione, 200 ospiti da 30 paesi per oltre 110 incontri e 10 workshop, Internazionale a Ferrara si conferma un appuntamento irrinunciabile per chi vuole sapere cosa sta succedendo sul nostro pianeta. Da Cuba all'Afghanistan, dall'Ivano alla Russia, dagli Stati Uniti alla Cina all'Europa. A Internazionale a Ferrara il racconto del mondo torna protagonista. Il via venerdì 30 settembre. In un momento in cui la guerra è scoppiata nel cuore dell'Europa, il nostro auspicio è che si possa cominciare a lavorare per invertire la rotta, dice Chiara Nilsen, vice direttrice di Internazionale e direttrice del Festival insieme a Luisa Ciffolilli. Ecco perché quest'anno abbiamo voluto che il Festival fosse dedicato proprio a riflettere e a diffondere culture di pace. E pace anche nel logo di Anna Keen, pensato per la nuova edizione. Questa volta il celebre mondo stilizzato tende il filo di un aquilone dai colori arcobaleno. Ora parliamo di moda. La serata delle metamorfosi è pronta per il quattordicesimo anno consecutivo. La moda in castello sta per andare in scena alle ore 21, mercoledì 7 settembre, sullo sfondo del monumento simbolo della città, il Castello Estense. Come sempre la serata evento organizzata da CNA Ferrara sarà ricca di bellezza e di spettacolo. 11 le imprese ferraresi tra aziende storiche e nuove proposte che porteranno in scena i propri modelli. Sentiamo. Laura Vallieri, presidente di Federmoda CNA Ferrara e con la sua attività sarà protagonista, tra le protagoniste della moda in castello. Allora cosa vuol dire? Per voi la moda in castello Ferrara è praticamente forse l'evento clou della stagione di questo 2022. Sì, senza dubbio la moda in castello è diventata negli anni un appuntamento immancabile perché ha acquistato via via sempre più visibilità e chiaramente acquista più importanza, più prestigio e è giusto esserci, insomma, sempre di più. Il settore della moda ne ha bisogno, ecco immagino anche voi artigiani del territorio, attività, vedete anche un'occasione per fare, diciamo, mettervi in mostra e proporre anche quello su cui lavorate tutto l'anno. Sì, sì certo. Sicuramente la visibilità è importantissima per il settore del tessile perché chiaramente è un po' la spinta che poi fa girare tutto il resto, quello senza dubbio. Non è tutto, chiaramente bisogna avere anche, ci sono anche tante altre cose che sono ugualmente importanti come il continuo aggiornamento, ad esempio, sulle materie prime a disposizione, il continuo aggiornamento sulle capacità anche proprio di lavoro, sulle tecnologie, sono tante cose che devono essere messe insieme, ma sicuramente se non c'è visibilità viene un po' cadere tutto il resto. Alessandro Pasetti, Made Eventi è una serata di moda ovviamente ma anche di spettacolo perché sono stati organizzati diversi appuntamenti all'interno dell'evento. Sì, abbiamo visto che negli anni questa formula della serata spettacolo ha colpito e conquistato il pubblico, quindi ormai il pubblico ferrarese che viene si aspetta proprio dello spettacolo e non solo della moda. Così abbiamo, per esempio, avremo un momento con gli psicodrummers che sono questi fantastici percussionisti e lì faranno un momento veramente che sarà davvero esaltante per il coinvolgimento, per il tipo di musica che fanno. Poi ci sarà Valentina Giannetta che è una delle più grandi arpiste italiane, suona l'arpa elettrica. La particolarità è che non fa musica classica ma fa addirittura la musica house e quindi sarà un'arpa pop. Poi abbiamo la scuola Special Dance che farà delle esibizioni, dei balletti all'interno delle sfilate e avremo anche dei momenti come per esempio avremo l'ospite Rochard che è questo stilista giovane balzato al successo per avere portato Orietta Berti, avere vestito Orietta Berti a Sanremo e lì ci sarà una spettacolare variopinta esibizione delle drag queen che indosseranno i suoi costumi. Quindi una serata davvero molto ricca di animazione. Concludo dicendo che un'altra novità, avremo due presentatrici, la riconfermata è ormai un classico Laura Sottili. Io le dico scherzando che quando finisce suona immagini e la prende, la mette già via e la tira fuori per l'anno dopo. Poi ci sarà quest'anno una presentatrice veronese Francesca Vitaliani che sarà veramente una rivelazione perché è molto molto brava. E Telestense riprenderà la sfilata che andrà in onda sabato 10 settembre su Telestense naturalmente alle ore 21 e 15. Ora all'ambiente arriva il bilancio della quinta edizione insieme per il creato che si è svolta domenica scorsa sulla spiaggia di Volano dove i volontari sono riusciti a raccogliere 35 boe grandi da pesca, 85 sacchi di rifiuti, 11 tanniche tra cui una piena di olio che poteva causare un danno ambientale nel caso fosse stata sversata in mare, raccolti poi rifiuti ingombranti di ogni tipo per un totale di una tonnellata di peso. Oltre alla spiaggia è stata ripulita anche la costa della Pineta tra Volano e Nazioni. Tanti volontari che hanno partecipato all'iniziativa, una quarantina in totale che nonostante anche la pioggia hanno dato una mano a raccogliere i rifiuti abbandonati portati dal po oppure dal mare, dalle attività di pesca e anche dal turismo irresponsabile. Volontari che fanno parte delle associazioni quali Plastic Free, Legambiente, Difesa Ambiente ma anche associazioni che non hanno solo missioni legate all'ambiente ma anche al sociale come l'AIL e insieme per caso. Delle 35 boe ritirate una quindicina sono recuperabili, dal punto di vista economico valgono 10 euro l'una e l'importo totale di 150 euro è stato donato all'associazione più felici di Mesola. E ora la SPAL dove sono stati presentati gli ultimi acquisti che hanno posto la parola a fine al mercato in entrata della squadra bianco celeste. Luca Valzania classe 96, in forza la Cremonese nella passata stagione arriva quindi alla SPAL in prestito secco dopo essere stato messo ai margini del progetto della squadra lombarda. Il nuovo centrocampista nella conferenza stampa di oggi ha sottolineato l'importanza della figura del DS Fabio Lupo nel suo trasferimento e come Ferrara fosse stata la sua prima scelta. Sentiamo. Raccontaci un po' come si è sviluppata questa trattativa. Poi il direttore ha detto ho preso l'uomo giusto per metterlo al posto giusto qual è tatticamente parlando il posto dove Luca Valzania può dare il meglio? Allora tatticamente e tecnicamente penso di essere una mezzala quindi nel senso nel modo di giocare in cui ha l'idea il mister comunque come mezzala quindi mi sposo pienamente sotto quel punto di vista lì e penso sia stato c'è stato qualche interessamento verso metà mercato così e poi comunque il mercato a volte particolare strano quindi può succedere sempre di tutto e nell'ultima settimana dieci giorni del mercato c'è stato un po' più di di chiamate di diciamo così e appena c'è stata l'opportunità di concretizzarla penso sia da parte mia che da parte comunque della società c'è stato un avvicinamento quindi è stata poi una trattativa abbastanza facile alla fine. Reduce da un campionato vinto 180 presenze in Serie B la dicono lunga di quella che è la tua esperienza in categoria nonostante tu sia ancora giovane come ha detto il direttore in precedenza nel pieno di quelle che possono essere anche le tue risorse fisiche hai visto la partita di sabato sei stato interprete in un momento molto delicato le tue prime impressioni sinceramente dove pensi a quale traguardo pensi possa ambire questa squadra ma penso che il traguardo da ambire sarà lo dirà piano piano il percorso nel senso io sono Reduce da un campionato vinto e vi faccio l'esempio anno scorso noi avevamo magari un obiettivo internamente nel nostro spogliatoio ma ci abbiamo iniziato a credere piano piano quindi nel senso era come un nostro obiettivo e piano piano con le partite abbiamo capito che potevamo essere protagonisti del campionato e quindi soltanto dopo una partita dopo una seconda partita una terza partita abbiamo capito di che valore veramente eravamo fatti e quindi è lì che abbiamo capito il nostro obiettivo quale fosse veramente passiamo ora all'altro nuovo acquisto il difensore alessandro fiordaliso classe 99 arrivato a titolo definitivo sempre dalla cremonese presente anche lui in conferenza stampa queste sono state le sue prime parole ci dicono personalmente lo ammetto ti conosco poco come giocatore tu possa dare un buon contributo in tutte e tre le zone del reparto dove però pensi poter esprimerti meglio appunto si la duttività è sicuramente un una mia caratteristica negli ultimi due anni a cremona fatto più il terzino destro e il centrale ho fatto anche il terzino sinistro a venezia ma anche negli anni precedenti alla fine sono a disposizione mi trovo bene in tutte e tre le posizioni ovviamente essendo destro prediligo quella zona del campo però mi adatto benissimo anche dall'altra parte centralmente quindi non ho una preferenza particolare sotto quel punto di vista contatto contratto pluriannale questo la dice lunga di quanto il direttore e il presidente perché entrambi avuto modo di conoscere a venezia ti possono stimare e di un'ulteriore responsabilità assolutamente fa assolutamente piacere però appunto mi da anche responsabilità di ripagare di ripagare questa fiducia perché appunto già lavorato con con il direttore quindi so che tipo di persone che tipo di lavoro fa e quando mi ha richiamato ero ero contentissimo e sicuramente mi responsabilizza e mi spinge a dare quel qualcosa in più come ho sempre fatto e lavorare duro a valzania abbiamo chiesto di descrivere il fiordaliso a fiordaliso chiediamo di descrivere quelle che sono le doti le qualità del tuo compagno di squadra sia cremona che ferrara sono sono tante io a cremona l'ho conosciuto primo anno abbiamo giocato anche parecchio parecchio insieme posso dire che oltre alle qualità umane le qualità tecniche sono sono veramente importanti è un giocatore con tanta forza che in partita ma anche negli allenamenti trascina il gruppo ha questa grande personalità di riuscire sempre a tenere alta la concentrazione non solo dei ragazzi che che gioca vicino a lui ma della della squadra intera e poi tecnicamente un giocatore che può in mezzo al campo può fare veramente la differenza allora chiudiamo qua il nostro tv giornale per gli aggiornamenti vi ricordo il sito pagina facebook canale youtube non perdere naturalmente questa sera alle 22 l'appuntamento con il processo al gran premio condotto da veronique blasi con i commenti dei suoi ospiti sul gran premio di olanda mars verstappen ricordiamo ha vinto e ha consolidato ancora qualora ce ne fosse stato bisogno il primo posto nella classifica del mondiale 2022 di formula 1 chiudiamo qua il nostro tv giornale grazie di essere stati con noi arrivederci